La vara costa di 1.800 kg, di cui 1.500 kg è la vara e 300 kg all'urno. I portatori in totale sono 64 kg, divisi in 4 assi da 16 persone cada una. La vara costa di 1.800 kg, di cui 1.500 kg lo risponde. I portatori in totale sono 65 kg, di cui 1.500 kg, di cui 2.500 kg, di cui 1.500 kg lo risponde. I portatori in totale sono 64 kg. La vara costa di 1.800 kg, di cui 2.500 kg lo risponde. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.